No, il Tribunale è in maggior difficoltà, quindi non verrò ad Ascoli se non per ammirare le... Parlando di processo penale, per quale motivo un cittadino dovrebbe fidarsi della magistratura ordinaria quando il giudice onorario, il PM onorario e sono tutti avvocati? I concorsi in magistratura che fine faranno? La magistratura onoraria sarà riformata molto presto, c'è una legge che giace alla Commissione Giustizia del Senato proposta dal governo e che credo che rapidamente sarà approvata dopodiché noi abbiamo rafforzato le forme di controllo sul funzionamento della magistratura onoraria da parte della magistratura ordinaria, si tratta sì di avvocati però va ricordato ma di avvocati che hanno superato una selezione e che dopo la riforma dovranno anche affrontare un percorso formativo che li qualificerà particolarmente.